Buongiorno a Friuli, benvenuti a una nuova edizione della nostra segna stampa sportiva. Anche oggi analizzeremo i vari temi che riguardano l'Udinese, non solo l'Udinese che ieri è scesa in campo a Zeboden contro la Kinshanspor, squadra che milita nella massima divisione turca ed ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in questi amichevoli e il terzo risultato utile di fila. Prima di andare a vedere quella che è la sintesi della gara di ieri, che ovviamente vi abbiamo trasmesso in diretta e in esclusiva, andiamo a dare una rapidissima occhiata a quello che è il messaggero Veneto, la pagina sportiva del messaggero Veneto, che apre con le note più positive che sono venute fuori dalla gara di Zeboden. Secondo il messaggero sono Zapata, De Paul e Matos. L'Udinese ha già tre stelle. Il primo gol del colombiano ha sbloccato il risultato, è l'amichevole con i turchi, in crescita il centrocampista neoacquisto, mentre il brasiliano, tanto per cambiare, corre, raddoppia poi Angella, Angella che ha realizzato praticamente il suo secondo gol consecutivo in queste due giorni di amichevoli. Il primo gol di Zapata, la costante crescita di De Paul, centrocampista davvero interessante, è la carica di Matos che va a 2000 all'ora per un'ora abbondante. Sono tante le notizie in arrivo dall'Austria che fanno sorridere Beppe Iachini. Il tecnico ieri a fine partita ha regalato un fuori programma alla sua truppa portandola a mangiare la pizza. Ma sarà buona in Austria? Si chiede giustamente Massimo Omeroi. È una domanda che forse è il caso di lasciare così, sospesa nell'aria, senza provare a rispondere. Un premio partita meritato perché la squadra si sta allenando davvero bene, come conferma poi quello che si vede in amichevole. E allora andiamola a vedere quello che si è visto in amichevole, la sintesi della gara tra Udinese e Akin Shanspor. Eccola qui. Oggi l'Udinese scende ancora in campo con la divisa bianca e inserti grigi a righe orizzontali, con invece il portiere che indossa la casacca blu che ieri è stata indossata per la gara contro il Felkirken. E se contro il Felkirken è stata poco più di una sgambata, lo abbiamo detto, oggi si torna a fare un po' più sul serio. Si comincia Udinese che attacca da sinistra verso destra del vostro teleschermo. Dall'altra parte invece la formazione turca che adesso va a contendere il pallone di testa. Alla fine c'è Matos che butta il pallone in fallo laterale, riparte in Guemot da dietro. Cambio di gioco da parte della Kishanspor, il colpo di testa di Angella, cercare il rider Matos, il rimpallo lo favorisce. Eccolo qua, il brasiliano sul out di destra, va a servire Widmer, il buon cross tagliato, è la rete di Duvan Zapata. Subito in vantaggio l'Udinese, in tuffo Duvan Zapata la mette alle spalle di Lucas, è al settimo minuto, è già in vantaggio l'Udinese. Il servizio è per De Paul, che allarga con i tempi giusti per Jankto. Grande azione, forse con la mano Duglao, più che forse con la mano Duglao, mi sbilancio. Comunque, alla fine, secondo l'assistente non è calcio di rigore, non so con quale altra parte del corpo potesse prenderla Duglao a quell'altezza. Comunque, Lopez fa viaggiare Pastè sul vertice dell'area di rigore. Danilo anticipa Rodaiega, grande giocata difensiva da parte del capitano Danilo. Cominciano le operazioni di riscaldamento anche della panchina turca, mentre Matos soffia il pallone al Jevicher, Zapata per De Paul. De Paul la controlla, se la porta sul sinistro, poi il destro, palla fuori di pochissimo. Rodrigo De Paul, vicino al raddoppio, alla quarantaduesimo, aveva fatto tutto bene. Probabilmente Jankto la toccherà a Lodi, così è la battuta di Francesco Lodi, Brangella. Il miracolo di Lukac stava per segnare ancora una volta Gabriele Angella, che non solo in allenamento fa la voce grossa sui calci piazzati, ma anche in partita. Cedic prova a vedere Rodaiega, che è finito in fuorigioco. La palla però è per il Miguel Lopez, che ha una buona corsa. Poi il cross morbido su Carnezis, che con il pugno anticipa in qualche modo Rodaiega. Jankto nel piede di Haidogdu, Carnezis, vola all'incrocio dei pali. Ha messo in crisi la difesa turca. Batte Lodi, malissimo il portiere. Non Angella, che segna ancora una volta Gabriele Angella su una palla, che aveva scritto sopra soltanto spingimi. Francesco Lodi, pennella per Gabriele Angella, al settantatreesimo, segna ancora l'ex QPR. Su assist di Francesco Lodi, bravo e fortunato questa volta Gabriele Angella, che cambia versante della zona di Jankto. La palla schizza, ma Jankto la tiene giocabile. Bravo Cuba, gran giocata di Jankto. La palla è per Lucas Evangelista, che vuole ancora Jankto. Ottimazione, la palla resta lì, con Kork che l'allontana. È pronto con il sinistro Haidogdu, che ha già impegnato severamente Carnezis. Parte Haidogdu, basso, e la palla finisce in rete, con una deviazione forse decisiva della barriera. Carnezis, che è rimasto spiazzato, Udinese, che subisce il gol del 2-1 al settantanovesimo. E quindi gli ultimi dieci minuti saranno ovviamente di allerta. Arriva un fischio, ed è il triplice, è il fischio finale. Finisce la gara 2-1, la vittoria dell'Udinese. Ringraziamo anche chi è stato qui con noi a far compagnia. Nella nostra telecronaca le reti di Duvan Zapata, di Gabriele Angella, il 2-0 dell'Udinese, che è stato poi dimezzato dalla rete su punizione di Haidogdu. E poi però non c'è stato più verso per i turchi di provare a impattare la gara, che è finita quindi 2-1. Buonissimo test per l'Udinese. Grande test per l'Udinese, buonissimo dal punto di vista del risultato, dal punto di vista della condizione fisica. Insomma una squadra che comincia a prendere sempre più forma. Si avvicina poi il primo test alla Dacia Arena contro il Middlesbrough. Si giocherà il 3 agosto. Anche quella gara ovviamente ve la trasmetteremo in diretta a noi di Udinese TV. Insomma rappresenta un po' la chiusura per quanto riguarda questo ritiro, la data del 3 agosto. Vediamo quali sono i promossi e i rimandati. Secondo il messaggero i promossi il capitano Danilo, che sfodera una prestazione attenta e convincente. Di fronte non c'è un attaccante anonimo, ma quel Rodaiega che dopo tre anni al fulham ha scelto la Turchia per tentare di rilanciarsi. Gli concede soltanto una conclusione su punizione. E su un cross dalla destra è provvidenziale con un salvataggio in spaccata ad anticipare il diretto avversario. Promosso, e questa oramai è una certezza per quanto riguarda il ritiro, per quanto riguarda questa pre-season, Matos, il brasiliano sembra quasi aver intuito che tira un'area diversa dallo scorso campionato e si batte come un matto, anche se in fase di non possesso palla, visto che non rientra sistematicamente sulla linea dei centrocampisti. Il gol nasce da un suo recupero in pressing sulla tre quarti avversaria. Idem l'occasione non sfruttata da De Paul. Dunque davvero super positivo Matos finora. E poi promosso anche Gabriele Angella. Nella sua ultima stagione a Udine era stata un'arma determinante per la qualificazione UEFA con quattro gol messi a segno. Il vizio di far male nell'area di rigore avversaria non l'ha perso dopo il gol di giovedì scorso che aveva sbloccato la situazione contro i direttanti del Felkirchen. Si ripete ieri e dietro è bello tosto. Bravo allora anche Gabriele Angella. I rimandati per quanto riguarda ieri. Lodi che finora è stato sempre tra i promossi. Ieri non ha evidentemente convinto i colleghi del messaggero. Paradossalmente fa meglio in fase di contenimento che in quella di costruzione. Specialmente all'inizio sbaglia qualche tocco di troppo. Considerata la qualità del suo piede mancino. prezioso sulle palle inattive come conferma la punizione messa sulla testa di Angella. Va detto che nella ripresa cresce parecchio e calce il cornet del raddoppio. E quindi forse dai. Almeno per quanto riguarda la descrizione. Nella categoria dei rimandati poteva anche non finirci. Poi Badu. Per fare il sospirato salto di qualità deve migliorare nella fase di costruzione. Anche ieri ha commesso un paio di errori di troppo quando si è trattato di verticalizzare l'azione per gli inserimenti di Widmer e il movimento a tagliare di Zapata. Però la sua fisicità in questo momento risulta ancora preziosa nel pacchetto centrale di Iachini. Rimandato anche Fofanà. Onestamente stavolta è stato difficile trovare qualche bianconero che non abbia convinto. Indichiamo il centrocampista francese solo perché ha commesso un paio di ingenuità. Ha cercato il cross quando in realtà doveva tenere palle. Ha tentato un disimpegno azzardato appena fuori dall'area quando sarebbe stato meglio calciare lungo. Inconvenienti della giovane età, niente di più. Insomma, il fatto che le tre descrizioni abbiano comunque dato spazio a termini positivi vuol dire che ieri effettivamente l'Udinese ha fatto una gran bella partita. Ha giocato bene anche Jacopo Biancto che ha parlato proprio ai nostri microfoni. Lavoro al 200% per mettere in difficoltà il tecnico. E allora andiamo a sentire le parole che il centrocampista classe 96 ha detto ai microfoni di Stefano Giovan-Pietro. Un buonissimo test. Vincere ovviamente non conta mai tanto negli amichevoli però oggi avete dato una bella risposta in campo. Sì, abbiamo affrontato una squadra molto forte secondo me. L'anno scorso hanno finito sesti in suo campionato quindi un buon test. Una squadra forte. Penso che siamo cresciuti un po' rispetto a un mese fa quindi siamo contenti. Abbiamo vinto però dobbiamo migliorare ancora alcune cose. Abbiamo parlato anche con Iachini. Lui ha detto in queste partite mischierò un po' le carte con giocatori che giocavano l'anno scorso e volti nuovi. Tu sei uno di questi. Oggi 90 minuti. Come ti sono sembrati? Sei sempre più nel vivo anche dei movimenti. Sì, siamo tutti un po' stanchi. No, ma normale. Dopo iniziamo quarta settimana di ritiro quindi le gambe sono un po' pesanti però io sono molto felice che ho giocato tutta la partita e che il mister mi dà questa fiducia. Nella scorsa intervista hai detto Ascoli ho fatto tutti e quattro i ruoli di centrocampo. Qui stai facendo anche il quinto. Esterno in un centrocampo a cinque non l'avevi mai fatto ma anche qui ti stiamo vedendo crescere giorno dopo giorno. No, non è vero perché l'anno scorso ho fatto sette o otto partite come il quinto Ascoli. Ho fatto anche tre quarti tutte le posizioni l'anno scorso diciamo ma in questa posizione mi trovo bene con tutti i compagni quindi sono contento. E quindi sempre più pronto per una stagione qui all'Udinese che si sta concretizzando sempre di più insomma sei un elemento che sembra essere molto importante a giudicare anche dalle parole di Bonato, Iachini sei nel centro del progetto. Io spero faccio massimo ogni allenamento vado duecento all'ora se mi stermi da spazio in campionato vediamo. E l'ultimissima arriva poi adesso un'altra amichevole contro una squadra saudita ma poi stai un po' attendendo quello che potrebbe essere l'esordio nel nuovo stadio contro il Middlesbrough quella partita è bella. Sì sì siamo tutti pronti a questa partita perché sarà una partita bellissima davanti al nostro pubblico quindi andiamo avanti andiamo a allenare speriamo che vinciamo anche contro il Middlesbrough davanti al nostro pubblico. E speriamo davvero che Cuba Yankto sia stato un buon profeta sia di sperare di vincere contro il Middlesbrough ieri ovviamente ha parlato anche Beppe Iachini sempre a microfoni Stefano Giovampietro il tecnico ha fatto un po' il punto della situazione e si è mostrato leggermente più soddisfatto rispetto al solito è sempre molto molto severo nei giudizi Beppe Iachini come giusto che sia bisogna ripartire però andiamo a sentire. Un buon test abbiamo visto comunque un avversario molto più ostico rispetto a ieri e buone indicazioni dalla squadra. Sì beh questa è una squadra che ha fatto molto bene l'anno scorso sul campionato turco quindi Serie A quindi è un buon test abbiamo fatto una buona gara magari sbagliando qualche appoggio di troppo dovevamo gestire un po' meglio il possesso palla però abbiamo avuto le nostre occasioni per fare qualche gol in più ma va bene così insomma in questo momento va bene. Abbiamo visto anche le sue dichiarazioni sulla gazzetta di mischiare un po' le carte tra senatori e nuovi acquisti giovani queste alchimie stiamo vedendo stanno andando sempre molto bene. Diciamo che stiamo verificando un po' tutti come giusto che sia la crescita e le conoscenze che stanno acquisendo quindi lavoriamo con questo spirito cercando anche nello stesso tempo di far sentire tutti i partecipi titolari perché poi il campionato è lungo e quindi ci sarà bisogno di tutti. Molto spesso, o meglio, è stato criticato per qualche gol sbagliato per esempio a Sofia Zapata oggi è arrivato il primo gol del suo precampionato ma si sa lui ha una struttura fisica tale che ci vuole un po' più di tempo. Certo, l'ho aspettato perché insomma stiamo lavorando molto ed è chiaro che lui più di altri ha bisogno di tempo per poter entrare nella giusta condizione. Questo mister Iachini su Zapata ieri non ha giocato De Nilsson che invece ha preso parte alla sfida con i direttanti del Felkirchen segnando anche due gole De Nilsson che resta sempre un obiettivo di mercato del Genova Genova che l'ha già avuto in squadra due anni fa si è comportato molto molto bene in Liguria e De Nilsson e quindi interessa sempre alla formazione di Juric a quanto pare il Genova potrebbe inserire una contropartita nell'affare per quanto riguarda la trattativa e De Nilsson la contropartita si chiama Panagiotis Taxidis centrocampista centrale classe 91 che ai tempi della Roma soffiò pure il posto a un certo De Rossi in cabina di regia con la complicità decisiva di Zeman autore della scelta insomma visto che l'Udinese è un centrocampista centrale lo cerca ancora ecco che il Genova ne propone uno di 25 anni col particolare di un contratto in scadenza il 30 giugno 2017 lavorandoci sopra l'Udinese potrebbe abbassare il prezzo pensando anche che il Grata Sarai ultimo a farsi avanti per Taxidis ha offerto 1.5 milioni di euro tre settimane fa tornando poi a Zielinski le parole al DS Bonato sono eloquenti stiamo cercando di capire le varie situazioni ma al momento non c'è nulla di concreto sempre fortissime su Piotra ci sono Milan e Napoli il Napoli non ha problemi di liquidità assolutamente ma sta cercando di capire cosa fare il Milan sembra avere l'accordo ma al momento ha problemi di liquidità perché non si è ancora capito di fatti chi paga nella società rossonera se ancora Berlusconi oppure i cinesi che dovrebbero entrare da un momento all'altro continuando a sfogliare il messaggero si parla di basket ieri è stato presentato l'europeo femminile under 16 che avrà proprio Udine come sua location la Iulia nell'organizzazione e poi presente anche per quanto riguarda la GSA il neo acquisto Delegal l'americano scelto Davide Mikalic per provare a disputare un buon campionato di A2 Delegal che ha scelto la maglia numero 2 I'll be wearing number 2 next season indosserò il numero 2 Eddie Delegal sul suo profilo twitter e con questa canotta che suppongo non sia stata ottenuta per meriti scientifici ma non so da dove la canotta della NASA promette che indosserà il numero 2 e noi aspettiamo Eddie Delegal spostiamoci adesso sul gazzettino gazzettino ovviamente parla anche lui di quella che è stata l'amichevole di ieri Zapata è la nota più lieta un gol e buoni progressi successo dei bianconeri nel test con i turchi della Kinsh Aspor ha fatto davvero molto molto bene ieri Duvan che come detto anche allo stesso Iachini avendo un fisico particolare molto grosso impiega qualche giorno in più rispetto agli altri per entrare in forma ha migliorato anche Iankto come sottolinea lo stesso gazzettino Zapata si è dannato anche nella seconda fase del gioco Danilo è parso signore nella propria aria dopo la rete di Angella i turchi hanno accorciato le distanze con Haidogdu che è passato sotto la barriera sorprendendo Carnetis anche questo l'abbiamo visto Terò insiste ma Pozzo non molla si parla ancora di mercato l'attaccante ribadisce il desiderio di andare a Marsiglia voglio andare via non ti cedo scrive Marco Agrusti alla fine prende nuovamente la parola lui si rilterò il protagonista numero uno del tira e molla più caldo è l'estate bianco-nera l'attaccante francese che tre giorni fa è uscito l'ha scoperto dichiarando a RMC di essere in contatto con l'Olympique Marsiglia è tornato sulla vicenda che lo vede in bilico tra la permanenza in Friuli e il ritorno in Patria non ci sono novità ma il mio agente continua a essere in contatto col club francese ha detto Terò alla Provence tutti sanno che sono un tifoso del Marsiglia se mi faranno partire sarà la mia priorità assoluta l'Udinese però con cui ho altri due anni di contratto non vuole farmi partire in prestito questa la situazione per quanto riguarda Siril Terò almeno questo secondo le parole che avrebbe pronunciato il francese ad un quotidiano vedremo come si evolverà la situazione si parla anche qui di Edenilson che potrebbe andare a giocare al Genova il laterale brasiliano non sembra aver convinto pienamente il tecnico Iachini ora sul suo profilo ci sarebbero sia il Genova che l'Atalanta i Liguri lo hanno già accolto nella stagione 2014-2015 come vi dicevo anche prima l'Udinese sta valutando anche un altro giocatore si tratta di Josue Sa centrale classe 92 di proprietà del Vittoria Ghimarães e di nazionalità portoghese un tentativo sarà messo in opera nelle prossime settimane per quanto riguarda il mercato bisognerà aspettare non è assolutamente ancora definito nulla è in totale evoluzione non siamo ancora nel mese di agosto e agosto è generalmente il mese più caldo sia per quanto riguarda le condizioni climatiche che per quanto riguarda lo stesso mercato si parla poi anche di Pordenone sul Gazzettino Ramarri contro Parma e Venezia l'ipotesi di Lovisa sul girone B sarebbe un confronto con squadroni il presidente dice non bisogna avere paura ma essere orgogliosi ci sono poi anche i numeri organico completo con 11 ripescaggi la riammissione ok per il Fano resta il caso Lecco purtroppo la Lega Pro è senza ombra di dubbio il campionato più subiudice di tutti addirittura l'anno scorso alcune squadre hanno iniziato il campionato di D per poi ritrovarsi in Lega Pro ci sono tante squadre che attendono il giudizio a parte della Covizoc per sapere se saranno ripescate oppure no è chiaramente una cosa che condiziona questa la preparazione di una stagione Pordenone il giorno in B con Parma e Venezia si fa sempre più strada l'ipotesi di una suddivisione verticale per le squadre del centro nord a rivelarlo è Mauro Lovisa che fa parte del Consiglio di Lega e ha partecipato recentemente a un gruppo di lavoro di alcune fra le più rappresentative società di terza serie la decisione definitiva uscirà dalla riunione del Consiglio del 4 agosto e anche dall'insomma si saprà cosa faranno le tante squadre che attendono di essere riammesse la Gazzetta e lo Sport velocemente leggiamo anche la prima pagina per quanto riguarda il quotidiano rosa si parla sempre di Mauro Icardi il prezzo di Maurito Toir avvisa Icardi vale più di 60 milioni i giocatori vanno e vengono l'Inter resta sembra essere comunque un primo segnale di apertura verso una trattativa che sta cominciando ad entrare nel vivo trattativa che tra l'altro dovrebbe sbloccarsi in un senso o nell'altro nella prossima settimana Napoli forte dei soldi di Higuain l'Inter dal canto suo cerca di monetizzare al massimo una cessione del suo capitano per quanto riguarda poi Mancini ci sono segnali di intesa ma il caso non è chiuso alle 23 poi questa sera c'è la sfida con il Bayern Monaco l'Inter che in totale bagarre non lo è invece la Juve che però è prontissima a cedere Pogba al Manchester United in pole position adesso c'è Witzel giocatore belga dello Zenit ancora di vampa la polemica tra Higuain e Aurelio De Laurentiis Higuain che nella conferenza stampa di presentazione alla Juventus ha sparato a zero sul suo ex presidente dicendo è tutta colpa sua sono andato via da Napoli De Laurentiis che ha risposto con una lunga lettera pubblicata sul sito del Napoli Higuain ricorda Napoli non si prende per quello che immagino possiate immaginare tutti da casa non c'è bisogno di esplicare in taglio basso Balotelli Blitzel Beziktas il patron del club turco a Monte Carlo per trattare con Raiola Mario Balotelli è in cerca di una squadra si sta allenando con il Liverpool con la formazione riserva del Liverpool Jurgen Klopp non ne vuole sapere assolutamente più nulla e chissà che Balotelli non vada proprio in Turchia a cercare di rilanciarsi certo è che fa un pizzico di tristezza immaginare uno che doveva essere la guida dell'attacco azzurro per i prossimi 10-15 anni addirittura andare in un campionato che per carità con tutto il rispetto sarà sì competitivo ma resta qualche passo indietro rispetto agli altri Milan in tournée Montella trova le prime certezze Donnarumma e il nuovo Niang Donnarumma che resta sempre il portiere titolare nel Milan e Niang che come punta sta facendo benissimo il rompipalone di Genniocchi Pogba è la più grande plusvalenza di sempre lo ha ribadito una donna che l'ha vista sotto la doccia va bene anche qui accettiamo questa battuta di Genniocchi ammetto di averla letta live con voi altrimenti ci avrei pensato un po' di più comunque chiudiamo con Gonzalo Higuain che palleggia all'interno di Juventus Stadium insieme ci divertiamo mentre Pogba se ne va Di Bala è tentato dal numero 10 in taglio alto Lukic Toro sono felice il centrocampista serbo a 19 anni ha firmato per 5 stagioni in questa foto sembra avere i capelli bianchi qualche anno in più ma è soltanto un effetto di luce e poi chiudiamo con quella che è una notizia che farà felici tutti i fan dei social network tutti i fan dei calciatori brutti chiamarsi bomber di quelle pagine che idolatrano un giocatore un ex giocatore come Cristian Vieri che però potrebbe tornare a indossare gli scarpini guardatevi ieri 10 chili in meno e vuole tornare a giocare eccolo qui l'ho annunciato ieri proprio in una delle sue innumerevoli clip che oramai popolano internet ha detto ho perso 10 chili devo perdere altri due e poi torno a giocare e lo faccio in Cina vedremo se anche Bobo allora deciderà di rilanciarsi era questa l'ultima notizia della nostra segna stampa sportiva grazie per averci seguito e a me non resta che augurarvi come al solito buongiorno Friuli grazie 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 grazie